L'idea di dove stiamo andando giusto per avere una road map. Allora abbiamo lanciato il token, noi abbiamo creato il token TRIPS, ne abbiamo fatti 63 milioni, perché sono 63 milioni di italiani, un token a testa. È un numero completamente casuale perché un numero va messo, ok? Lockchain ha fatti 18 milioni, Bitcoin ha 21 milioni, l'Ethereo non mi ricordo quanti ne ha, Ripple ne ha fatti miliardi, eccetera. Un numero buttato lì. L'abbiamo fatto, non è fatto neanche come andrebbe fatto, il token andrebbe fatto nel momento dell'ICO, automatizzato ogni volta che compri l'Ethereo. Li ho fatti per giocarci un po' assieme, ok? E praticamente il token diventerà una specie di foglio Excel dove tu mi dai una mano a fare delle cose, tu dai una mano al network, ti do dei token, ti li do a physical, ti li mando proprio sul tuo wallet, ci avrai TRIPS, ci mettiamo d'accordo che non valgono niente, però misura il tuo apporto alla cosa. Cominciate un po' a capire le cripto come sono, ok? E a gennaio abbiamo iniziato a creare la community. Sta andando bene, è molto lento perché non abbiamo messo nessun budget, però sta andando bene, sono contentissimo del tipo di risposta che c'è. A febbraio facciamo questi incontri, al momento sono tre, tra cui quello di oggi ne ho altri due in programma, quindi a febbraio ci si incontra, che è la cosa più importante, e inizieremo anche i confronti su white paper. Io ho scritto questo PDF, voglio confrontarmi dal vivo con altre persone, perché se è solo la testa mia non si va da nessuna parte. A marzo, se riusciamo, si fanno i programmi bounty, cosa vuol dire? Chi è che ci dà una mano a fare il design della pagina? Io faccio il design, sono bravo, eccetera. Vabbè, ti prendi 100 TRIPS, 1000 TRIPS, 10.000 TRIPS, eccetera. Fai il lavoro, te li mandiamo, e ce li hai. Cominci a sognare che vadano su, ok? Però che sia chiaro che non valgono niente, perché se no... Tra l'altro ieri o oggi mi ha scritto un ragazzo che ho conosciuto anni fa, al Lago Maggiore, no, in Toscana, scusate, che è programmatore, sta alle Canarie e fa Luca, voglio entrare in TRIPS, voglio programmare per voi, mi paghi in TRIPS. È vero? Già questo dà uno 0,001 euro, perché già dà un valore, c'è già del lavoro che ha un valore oggettivo, che già possiamo mettere nei token, ok? Aprile, se riusciamo, vorrei fare un bel meeting generale, dove si sta un weekend assieme in qualche villa in Toscana, o qualche altra parte, eccetera, dove si fa proprio un lavoro approfondito di definizione del white paper, quindi dopo un paio di mesi di ragionamenti, lo finiamo, lo chiudiamo, ok? Non sarà... Non so come fare, se fare a votazione, se fare altri sistemi, eccetera, eccetera, però vogliamo definire il white paper. E voglio che il nostro white paper sia il risultato di un lavoro di tante menti, di un paio di mesi, c'è qualcosa di gente che lavora nel settore. Con un white paper del genere siamo avanti rispetto a tutti gli altri, perché non ce l'hanno assolutamente... Il progetto credibile? Il progetto credibile, sì. A maggio possiamo cominciare a pensare ai primi investimenti, ok? Adesso poi ho tutta una slide dedicata agli investimenti. e poi più avanti a definire creazione app, lancio, eccetera, lì non vi so dare dei mesi.